Mister, che differenze ha colto rispetto alle ultime uscite in particolar modo, quelle di due giorni fa? Che la gamba va meglio, soprattutto al secondo tempo la squadra è cresciuta a livello fisico, la gamba va più sciolta, quindi vuol dire che si è fatto un buon lavoro a livello fisico e che i ragazzi stanno prendendo la giusta condizione, questo è una nota più giusta. La gamba comincia ad andare, cominciamo ad uscire in aggressione, e questo è l'aspetto più positivo con questo. Ecco l'aspetto tattico perché c'è anche quello importante da valutare. Tatticamente siamo andandosi bene, le giocate le facciamo ancora troppo orizzontali e troppo dentro, perché bisogna giocare più in profondità e più in ampiezza, quindi ecco questo dobbiamo migliorare. Io voglio un calcio più verticale e più veloce, su questo non lo transigo, quindi se devo essere soddisfatto sarei uno che si accontenta di far giocare non benissimo la squadra, invece dobbiamo migliorare, dobbiamo giocare ancora più veloce, ancora più svelte e andare in profondità. Tanti infortuni, ma anche una rossa ancora da completare a sette giorni da una partita importante. Sì, però adesso sui infortuni devo precisare che da quando io sono arrivato l'unico che si è fatto male è stato Olivieri, perché le altre situazioni le abbiamo ereditate, questo giusto per parlare chiaro, perché io, però io come ho sempre detto, è una situazione d'emergenza sulla quale bisogna comunque saper trovare le soluzioni giuste e non piangere perché il pianto non paga e quindi, però ecco, giusto per dare accesso a quello di Cesare e per prendersi le proprie responsabilità, noi da quando siamo arrivati noi sono un gioco che si è fatto male, quindi, però capita insomma, abbiamo ereditato situazioni difficili, andiamo avanti, cerchiamo di portare la squadra alla migliore condizione possibile, però la squadra ha imparato a giocare ancora più veloce e ancora più in profondità. Mister, un giudizio sulla prova di Ghiannoni che lei conosce bene? Ghiannoni è un ragazzino forte, sta crescendo, un giocatore che io so benissimo dove può arrivare, cioè io penso che lui possa arrivare ad alto livello, però adesso non cominciamo a enfatizzare troppo perché, come ho detto prima, io vado nel complesso della squadra, andare sui singoli non mi piace perché, ripeto, la squadra ha fatto cose buone, è andata meglio come condizione, però non ancora benissimo, perché sui ritmi dobbiamo andare ad essere ancora più veloci, più aggressivi e più subito attaccare lo spazio in avanti. Ghiannoni sta crescendo, però, come ho detto prima, se mi accontentassi, togliere alla squadra quel margine di miglioramento che invece deve andare a trovare prima possibile. Rispetto alla partita di tre giorni fa abbiamo rivisto Juan in attacco e Lisi anche mezz'ala e l'abbiamo visto Lisi piuttosto bene. Juan oggi così così è soddisfatto? Io adesso, la parola soddisfatto è una parola grossa, l'ho detto poc'anzi, non è che posso andare sui particolari, ma non c'entra niente Juan, non c'entra niente Lisi. E' il concetto di gioco, la mentalità che la squadra, come ho detto prima, deve essere più svelta, ancora più veloce, andare in avanti. Questo lo sta facendo, si sta impegnando, ma ancora di più, perché non è questo il massimo dove... sarei un limitato secondo me, invece ecco, certi concetti di acquisire la squadra, però dirò come sto contento, eh, non so il tipo, perché non mi piace intanto dire le cose che non penso. Seconda cosa, è giusto che noi cerchiamo di essere ancora più bravi nel giocare, come ho detto prima, ancora meglio. Poi Lisi e Juan hanno fatto... cioè Juan interpreta benissimo il ruolo secondo me, e Lisi è lo stesso, perché comunque ha le caratteristiche per giocare a mezzare l'esquilibrio. E' lo stesso Juan sotto Bunda, che poi accorcia benissimo in avanti, e secondo me il ruolo ce l'ha dopo. L'ho detto l'ultima volta, lo ripeto adesso, la necessità deve rappresentare una virtù per la squadra, non un lamento, perché il lamento non porta nessuno a percorrere tanta strada. Mister, sul mercato molto è stato fatto, molto ancora si farà, cosa si aspetta da qui ai prossimi giorni? Quali sono, dal suo punto di vista, le eventuali priorità? Il mercato lo fa il direttore, lo fa la società, loro sanno quelle che sono le mie esigenze, compatibilmente a quello, io ho detto sempre, la prima volta che sono venuto, non vi aspettate i nomi dal curriculum ricco, perché non sono il tipo allenatore che prende giocatori che hanno, diciamo ecco, un curriculum importante. A me piace quelli che hanno fame, perché su quelli che hanno fame si può costruire questa idea di gioco che piace a me, che è molto dispendiosa, che è molto impegnativa, però secondo me è molto efficace. Poi, sai, far correre quelli che hanno la pancia bene è dura, quindi mi piacciono i giocatori che hanno caratteristiche decise e dobbiamo essere bravi. Quindi, la società conosce il mio pensiero, compatibilmente alle possibilità economiche, si cercherà di completare l'organico, perché l'organico non è completo. Allora, mister, queste ultime 20 euro sicuramente ci sono servite per verificare un pochino anche la condizione della squadra. Ecco, che cosa c'è da prendere in considerazione di buono e che cosa c'è ancora da migliorare? Di buono c'è che c'è stata una progressione sotto l'aspetto della condizione atletica. Soprattutto nel secondo tempo la gamba dei ragazzi è andata più sciolta, più fluida, è andata meglio, è andata più non rotonda, più esplosiva. Quindi questo significa che stiamo crescendo sotto l'aspetto fisico, riusciamo a essere, come ho detto prima, sotto l'aspetto dell'identità. Va bene, però questa identità va espressa ancora con tempi più corti, più brevi.